Malavasi Vini, ospite della bellissima cena organizzata dalla Banca Valsalbina Millennium Holley. Con noi è il direttore generale Emanuele Catania, che ha fortemente voluto questa cena nello stile Emanuele. Noi la chiamiamo Cina Networking perché è un'occasione per gli sponsor, di essere seduti a un tavolo, degustare del buon cibo, del buon vino e fare del business, del networking, conoscersi, perché riteniamo che sia oggi un'arma vincente quella di fare rete, di collaborare, di unirsi, quindi mettere tutti gli sponsor seduti a un tavolo e pasteggiando e cercare anche di fare del business, chiacchierare della squadra, dei risultati di questa Serie 1. Ecco, è proprio Malavasi che per il secondo anno consecutivo appoggia questa bella scommessa della Millennium Volley che quest'anno ha trovato la promozione in Serie A 1. Allora Emanuele, cosa possiamo dire di questa promozione? Sicuramente meritata e so che siete arrivati senza i play-off, quindi direttamente perché eravate la prima squadra della Serie A 2. Bravissimo, esattamente, diciamo che innanzitutto grazie a Malavasi che ci sostiene per il secondo anno, evidentemente il primo anno ha portato molto bene e anche perché troviamo i vini Malavasi nel nostro hospitality, quindi è il nostro fornitore ufficiale di vini e lo ringraziamo tanto. Diciamo che è stata un'annata super perché eravamo partiti un po' male, con quelle 3-4 sconfitte in 5 partite inizio campionato, un 14esimo posto che ci stava stretto e poi le ragazze sono state bravissime, hanno fatto questa rimonta clamorosa fino dal 14esimo al primo posto, ne hanno parlato tutti, anche la Gazzetta dello Sport se ne è parlato per veramente tantissimo tempo e quindi noi avevamo come obiettivo quello di poter entrare nei play-off, diciamo entro le prime 5-6-7 squadre in base a come era il campionato e abbiamo finito primi, la bellezza dello sport, di questo sport che veramente ti rapisce e poi soprattutto quando ci sono i risultati così importanti, proprio ci lascia il cuore in certe annate, quest'anno un'annata, una stagione importante in A1, il massimo campionato italiano e probabilmente il campionato più bello del mondo e ci siamo anche noi. Ci siete e fate sentire la vostra presenza, già tre vittorie all'attivo. Sì, siamo partiti bene, che è quello che dovevamo fare perché il primo anno in un campionato così complesso è fondamentale salvarsi senza tanti fronzoli, senza stare a fare troppi calcoli, non è ancora detto niente, siamo solo a circa un quarto del campionato, forse meno, quindi dobbiamo rimanere molto concentrati, non fare voli pindarici, però diciamo che chi ben comincia... come si suol dire, è a metà dell'opera. Esatto. Quindi un grosso in bocca al lupo. Viva il lupo. Viva il lupo. Ma la Vasi vi seguirà sia come partner ma anche come presenza, assiste alle partite perché già l'anno scorso erano agguerrite, quest'anno ancora di più perché di fatto cambia molto dalla 2 alla 1, ci risultano come profani. Sì, assolutamente. Come impegno chiaramente vostro e anche come impegno delle ragazze. Quindi rinnoviamo questi fortissimi bocca al lupo e ringraziamo moltissimo per l'ospitalità di questa serata. Grazie a voi e grazie a Malavasi che ci disseterà nel corso di questo campionato, quindi grazie tante. È sempre importante avere delle aziende belle, sane, che danno sostegno allo sport. Grazie. Bene. Grazie a tutti.